buongiorno cari miei amici italiani oggi facciamo un'altra lezione di conversazione per principianti e io ho preparato per voi oggi una conversazione quando si prende un tassi quindi cominciamo vediamo qui una panoramica teleparole ku ku dove udhëtoj udhëtoj shkoj shkoj vjagjare andare shoferi i taksis shoferi i taksis taksista sot sot oggi ræth ræth attorno a all'incirca ciutete ciutete la città ca ca c'è kusur kusur ilkambio fatura fatura la ricevuta pushimet pushimet le vakance asht në regol asht në regol asht mir asht mir va bene così adesso vediamo il dialogo e per favore trovate un amico o un'amica albanese e fate pratica con questo dialogo cominciamo taxi 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 per shëndetje per shëndetje ku doni të shkoni per shëndetje ku doni të shkoni buongiorno dove vole andare dua të shkoj në supermarket i lutem dua të shkoj në supermarket i lutem volion dare al supermercado per favore ok me njëher ok me njëher certo subito grazie ke bella giornata oggi vero faliminderit është dit e bukur sot apo jo faliminderit është dit e bukur sot apo jo grazie ke bella giornata oggi vero po shumë dit e bukur po shumë dit e bukur si davvero una vera giornata a munta hap dritarren? a munta hap dritarren? le dispiace se apro il finestrino? jo a spak a jeni këtu me pushime? jo a spak a jeni këtu me pushime? certo ke no e qui in vacanza? po jam duke vizituar cytetin po jam duke vizituar cytetin si, sto visitando la cita shumë mirë ga ti arritëm? e sta o di shumë mirë e sta o di shendo amesteso si, sto o di shumë mirë s'ka problem buona giornata buona giornata kalofshi pushime samuto bukurah kalofshi pushime samuto bukurah buone vacanze questo era il dialogo e jenër ? un'amica da fare pratica perché così l'albanese lo potete imparare meglio. Quindi se vi piacciono i miei video per favore iscriviti sul mio canale ViolaGJ, molto molto importante per me. Ho una pagina Facebook Less Learn Albanian, ho un gruppo Facebook Learn Albanian with Viola, Instagram Learn Albanian with Viola, Twitter Al with Viola e email gjullbegajkjocjola gmail.com per delle leccioni private su Skype. Bona giornata, miru pafshi, kalofshi një dit sa më të bukur.